Il gioco d'azzardo è diventato in tutto il paese una piaga molto estesa e altamente pericolosa. Il movimento politico La Rinascita invita gli elettori del Basso Molise ad unire le forze per eleggere candidati locali alle prossime elezioni regionali. Gara secca di playoff domani pomeriggio sul difficile campo marchigiano del Matelica per l'Agnonese a Montenero di Bisaccia, tappa del Giro d'Italia. Ben trovati gentili telespettatori, iniziamo il nostro telegiornale dalla cronaca colpo riuscito alla sede di Campobasso della Banca Popolare per l'Emilia Romagna. I ladri hanno prima sfondato le porte d'ingresso e poi fatto esplodere con perizia l'apparecchiatura del Bancomat. Non può essere altrimenti. Altrimenti hanno studiato tutto con molta attenzione i malviventi che verso le 4 del mattino alle prime luci dell'alba hanno sfondato con un'auto la porta d'ingresso della sede di Campobasso della Banca Popolare per l'Emilia Romagna, che è ubicata in via 4 Novembre, in una zona periferica della città. I ladri, con una perizia da sicuri professionisti, hanno poi provveduto a far esplodere l'apparecchiatura del Bancomat, eventualmente senza danneggiare le banconote in essa contenute e a disposizione dei clienti per i consueti prelievi. Un bottino certamente non altissimo, ma sicuramente significativo, perché si aggirerebbe attorno ai 25.000 euro. Un colpo tra l'altro portato con assoluta velocità, visto che il personale dell'istituto La Vigilanza, allertato dall'allarme, non è riuscito a trovare più alcuno quando è giunto nello spiazzale della sede della banca. Un'azione che davvero sembra essere stata progettata con cura, visto che la zona, in quell'orario, è sempre abbastanza deserta, con davvero pochi passanti. Immediato l'arrivo delle forze di polizia, che stanno indagando celermente per tentare di risalire agli esperti autori della rapina, mentre stanno visionando tutte le numerose immagini delle apparecchiature della videosorveglianza, che sono comunque ubicate nella zona e nelle sue adiacenze. Un pregiudicato termolese di 42 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia e condotto in carcere a Larino per furto aggravato, resistenza e ultraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, socialmente pericoloso, si era impossessato di una somma di danaro custodito in un cassetto all'interno di uno studio medico privato della città adriatica. Continuiamo ancora con alcune operazioni dei carabinieri. A Termoli è stato arrestato un trentenne che, alla guida di un furgone proveniente da Foggia, nascondeva ben mezzo chilo di eroina. A Caroville, invece, è stato denunciato per danneggiamento e alterazione di bellezze naturali un operaio che, dopo aver tagliato alberi di quercia e faggio, stava sportando legna da un bosco. Gli agenti della polizia di Isernian, accompagnato alla frontiera marittima di Bari per il rimpatrio, un giovane pregiudicato albanese scarcerato dal carcere di Ponte San Leonardo, dove ha scontato la pena per reati di rapina, sfruttamento della prostituzione, spaccio di stupefacenti, favoreggiamento dell'ingresso clandestino di minorenni, inoltre personale della squadra mobile, accompagnato agli arresti domiciliari, una trentenne roma del capoluogo Pentro. Cambiamo argomento, in una conferenza stampa il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, entra in merito alla nota dell'ANAC che risponde alle critiche che considera infondate dei comitati contrari al progetto di riqualificazione del centro di Termoli. Siamo assolutamente sereni, è tutto in regola, è la nota dell'ANAC che è stata letta dai comitati in maniera completamente distorta. Anzi, io devo sottolineare come quando è arrivata il nostro RUP e gli altri hanno accolta favorevolmente perché significa dopo diversi esposti di fide che i comitati hanno fatto alla Procura della Repubblica ad una serie di enti, l'ANAC non ha provveduto ad emanare alcun provvedimento interdittivo di richiesta della tutela nei nostri confronti, questo a significare la piena regolarità del procedimento. Infatti gli articoli apparsi ci sono venuti un po' come un fulmine a cessereno perché non riusciamo a capire che una nota positiva possa essere estrapolata in parte del suo contenuto e fatta diventare una nota negativa per il comune. Questa è una strumentalizzazione che si fa non solo delle note da parte di enti pubblici ma un po' di tutto quella che è la battaglia. Io posso capire la battaglia politica dei comitati referendari e la capisco perché ovviamente noi siamo l'amministrazione ma non capisco quello che è un tentativo di voler strumentalizzare anche giudiziariamente una procedura del tutto regolare e queste noi le rispettiamo al mittente, le rispetiamo al mittente. Noi siamo assolutamente sereni, siamo l'unica amministrazione, credo non solo nella regione ma poche in Italia che abbiano adottato e istituito uno specifico sito dove ci sono tutti gli atti del procedimento e quindi tutti i portatori di interesse si possono accreditare per vedere e verificare la regolarità e la legittimità di tutti gli atti. In più abbiamo fatto un dibattito pubblico che è stata una delle prime esperienze in Italia e siamo stati anche premiati per questo dibattito pubblico a Roma proprio per la innovatività che abbiamo dato e in questo dibattito pubblico si poteva dire e chiedere tutto quello che era in relazione al progetto. E restiamo a Termoli, l'azienda autonoma di soggiorno e turismo del distretto Molise orientale presenti oggi a Roma alla giornata dei borghi storici marinari, un momento per far meglio conoscere la cultura marinara termolese e le sue tradizioni attraverso la presentazione di un video, costumi e oggetti legati alla cultura del mare per rappresentare la costa adriatica del Molise nella capitale, in questa occasione anche il gruppo folclorico Aschiaffet con due esibizioni. Oltre all'Emilia Romagna, capofila del progetto e al Molise, alla manifestazione romana anche le regioni Piemonte, Friuli, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Giustizia e legalità in Italia, a raccontarle l'ex primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris, parlamentare europeo e scrittore, invitato questa sera a Campobasso per un dibattito pubblico. De Magistris, ma Napoli è talmente difficile a governarsi? Sicuramente è una delle città più difficili, quando venne De Blasio il sindaco di New York tre anni fa a Napoli, disse che secondo lui era più difficile amministrare Napoli che New York, però la stiamo amministrando, senza soldi e in questo momento a mio avviso si vive una fase di grande riscatto grazie ai napoletani, quindi nonostante difficoltà sono molto orgoglioso del fatto che i napoletani si stanno riappropriando della loro città e che soprattutto attraverso la cultura si sta vivendo la riscossa di Napoli. In questo suo libro lei che cosa racconta? È una testimonianza che ha raccolto una giornalista molto giovane che mi ha seguito in questi anni, c'è la testimonianza di cinque anni e mezzo, quasi sei, di amministrazione, Napoli città che si è ribellata al sistema della corruzione, Napoli che ha risolto in un mese un'emergenza di fiuti che da anni strangolava la nostra città, Napoli che supera Firenze in questo momento per presenze culturali nei musei, ma anche la Napoli delle sofferenze, degli ostacoli dei governi centrali, insomma Napoli mille colori come direbbe Pino Daniele, quindi non è certo il paradiso terrestre, sia ben chiaro, però è una città di cui oggi si parla in tutto il mondo, non più per Gomorra ma per la sua straordinaria fantasia, creatività e voglia di riscatto. Facciamo un salto di 250 chilometri, arriviamo nella capitale, come governerebbe lei Roma? No, non mi faccia fare questo mestiere di fantasia perché io orgogliosamente faccio il sindaco di Napoli e io non posso che augurare ai miei colleghi sindaci di qualunque appartenenza politica di fare gli interessi dei propri concittadini e superare momenti di difficoltà, io quello di cui posso essere orgoglioso è che oggi Napoli non è la zavorra del paese ma può essere un punto di riferimento per governare con le mani pulite, di cui andiamo soprattutto fiere per questo, perché il paese è ancora attraversato da tanta corruzione e come ha detto Erri De Luca qualche tempo fa a Napoli non esiste la questione meridionale ma la questione nazionale che è la corruzione e che Napoli in questo momento è in prima linea nella lotta alla corruzione. Sono attese domani in Molise più di 30 delegazioni di amministratori comunali provenienti da altrettanti centri in sette regioni italiane che parteciperanno al secondo raduno del network Borghi della lettura in programma a Larino e Casacalenda. La conferenza plenaria sarà preceduta da visite guidate nel borgo medievale Frentano e ai carri in allestimento per la festività di San Pardo, a seguire ci si sposterà nella vicina Casacalenda. Il gioco d'azzardo in Italia ha raggiunto dimensioni tanto preoccupanti quanto industriali, solo lo scorso anno i giocatori più accaniti hanno perso una cifra pari a 18 miliardi di Euro. Daniele Poto, l'argomento di cui si parla è un argomento estremamente importante, a caso c'è il suo intervento, quello del sostituto procuratore della Repubblica e quello di un esperto, ma in Italia quanto è stesso? È un fenomeno molto preoccupante, nel 2016 gli italiani hanno puntato sull'azzardo, quindi rimettendoci dei soldi sonanti 95 miliardi, 18 miliardi la cifra persa dagli italiani, 10 miliardi la cifra guadagnata dallo Stato. Purtroppo in questa dimensione della filiera il ruolo dello Stato è quello del biscaziere, è una parola brutta, è un accoppiamento strano, brutto, suona male, però lo Stato è biscaziere, per definizione il biscaziere tiene il banco e vince sempre, vince alle spese della salute degli italiani, nonostante che la Costituzione abbia un articolo in cui la salute degli italiani dovrebbe essere tutelata e difesa. Eppure nel 1700 questo fenomeno era altamente agevolato perché permetteva un incremento nelle casse all'epoca dei regnanti. Non era un gioco di dimensione industriale e c'era una notevole opposizione soprattutto nell'Ottocento verso il lotto, il lotto praticato dallo Stato pontificio, io ricordo un popolano romano, poi protagonista della Repubblica Romana, Ciceroacchio, che si batteva fortemente dal basso della propria ignoranza ma della propria intuizione contro il lotto che rovinava le famiglie e le persone già allora, parliamo di due secoli fa. Ecco, un altro aspetto di questa piaga, le cosiddette macchinette mangia soldi e praticamente anche mangia patrimoni. Sì, è l'elemento più preoccupante del sistema perché del fatturato il 55% viene dalle macchinette, diciamo macchinette intendendo le news lotte, le videolotterie, ben più pericolose. Un italiano perde a una singola videolotterie, facciamo calcoli medi, 70 mila euro all'anno. Una videolotterie ha una potenza di impatto, di accumulo di denaro, 7-8 volte pari a una news lotte. Nessun paese al mondo ha un rapporto così forte, così pervasivo tra il numero degli abitanti, 61 milioni, e il numero delle macchinette che sono 450 mila. Abbiamo una macchinetta ogni 150 abitanti. Credo che tutti gli italiani sarebbero contenti di avere questo rapporto per la disponibilità dei posti letto in ospedale. Italia Nostra lancerà domani mattina la prima giornata nazionale dei beni comuni. Un bene condiviso che sarà centro di iniziative di valorizzazione attraverso attività di tutela, pulizia e recupero. L'associazione ha individuato il sito in località Colle Ricciuto, in Agro di Duronia, un insediamento risalente al III-IV secolo a.C. che la sovrintendenza archeologica ha dichiarato di interesse particolarmente importante. La Giunta regionale approva la proposta di legge sui disturbi dello spettro autistico. Il provvedimento seguirà percorsi che la dovranno portare a breve all'approvazione in Consiglio regionale. Il tema dei disturbi dello spettro autistico è stato affrontato dall'Aggiunta regionale del Molise che, su iniziativa del Presidente Frattura, ha predisposto un'apposita proposta di legge che, seguendo l'iter consueto della discussione nella competente commissione, dovrebbe giungere al Consiglio per l'eventuale definitiva approvazione. Una legge che rappresenterebbe, come afferma il Presidente, un passo avanti che tutto il Molise fa in termini di attenzione e vicinanza strutturale nei riguardi di bambini, adolescenti e adulti affetti da questo complesso disturbo che investe in particolare la capacità relazionale. Intanto si sottolinea la scelta di predisporre una vera e propria legge che denota la differenza sostanziale con altri territori regionali italiani, dove si è scelto di predisporre soltanto alcune linee guida e altri provvedimenti diversi dalle norme legislative. Un sistema di tutela complesso, quello molisano, che si concentra sulla persona, che viene vista nelle dimensioni interne alla famiglia e alla società, con un testo che si indirizza nel sistema programmatico di una rete dei soggetti deboli, dell'integrazione socio-sanitaria e della riabilitazione. Un discorso dove tutto mira a garantire l'assistenza di natura sanitaria e ad agevolare le condizioni che possano consentire l'opportunità di garanzia dei diritti di piena cittadinanza. Tutto nello spirito concreto e significativo che è racchiuso nel motto di forte significato ed ispirazione del percorso della legge. Le famiglie non saranno lasciate mai più sole. L'Associazione Donazione di Organi, in occasione della festa della mamma, ha organizzato domani a Disernia, Miranda e Macchia Disernia, la giornata della rosa. I volontari Aido offriranno rose per sensibilizzare i cittadini alla donazione di organi dopo la morte. Nel capoluogo Pentro i volontari saranno presenti all'ingresso dell'ospedale veneziale e nelle piazze antistanti le chiese di Santa Maria Assunta, San Giuseppe, lavoratore e sacro cuore. Cambiamo ancora argomento. Nel centro storico di Larino, in via Cluenzio 7, il movimento politico-culturale La Rinascita ha inaugurato la nuova sede. In occasione dell'apertura i soci si sono soffermati sulla difficile situazione politica in ambito locale e alla Regione Molise. Vediamo. L'amministrazione Notarangelo, fino ad oggi, insomma, peccato per tanti aspetti di superficialità. Purtroppo anche a livello di finanziamenti siamo talvolta troppo carenti. La programmazione creata per il futuro e per i prossimi anni è decisamente molto carente. Il movimento La Rinascita vuole ripartire da quella che è una desertificazione del coinvolgimento della collettività, cercando di ricostruire e di riporre le basi per un futuro programmatico, un futuro possibile, un futuro volto alla concretezza, senza troppi voli pientarici rispetto ai programmi elettoralistici, con 4-5 punti che puntano a quelle che sono le peculiarità di questo territorio. È inutile che si continui a paventare chiusure e cercare inevitabilmente soluzioni attraverso l'arrivo di X azienda di soluzioni sanitarie che poi risultano essere solo palliativi. Ad oggi vi necessità di riprogrammare effettivamente questo territorio puntando a quelle che sono le risorse che questo territorio ha. Faccio riferimento a quelle che sono le risorse agricole, le risorse turistiche, una riorganizzazione culturale con tutto il patrimonio storico e artistico che andrebbe rigenerato e riqualificato, proprio per avere uno spunto, uno sviluppo economico in quel settore, evitando che ci possano essere un continuo spopolamento di questo territorio. Dall'aggiunta frattura insomma siamo rimasti estremamente delusi, non ultima le novità in merito al Vietri, basti pensare che non è punto di riferimento, non è centro di riferimento neppure per quello che è il discorso delle RSA. Il giorno fa si leggevano nelle tabelle che comuni dell'Inter l'Andalarinese, faccio riferimento a Colletorto, a Palata, comuni anche più piccoli rispetto a quello frentano, hanno quasi più posti letto dell'ospedale di Larino. In generale a livello programmatico, a livello sociale, a livello di piani di sviluppo di lavoro per quest'area il Presidente Frattura non ha compiuto quello che effettivamente intendeva mettere in atto nel corso della campagna elettorale. La delusione è viva, si auspica una partecipazione innanzitutto cercando di trovare sbocchi per questo territorio e con questo il Movimento della Rinascita spinge innanzitutto l'elettorato, il panorama politico locale a spingersi su una riflessione fondamentale. Noi non possiamo permetterci alle prossime tornate elettorali una prolificazione di candidati che porterà ancora una volta un deficit di rappresentanza per questo territorio. Tutto il panorama politico dovrebbe riflettere sull'importanza di una sintesi. Avere troppi candidati larinesi porterebbe a una defragmentazione del voto che non eleggerebbe nessuno e questo deficit, questo gap di rappresentanza ha prodotto per l'area frentana ma l'area basso molisana in toto, uno spopolamento al quale bisogna inevitabilmente mettere fine. È prevista domani al Parco San Giovanni in via Lombardia a Campobasso la diciannovesima edizione della festa di primavera organizzata dall'associazione Il nostro quartiere San Giovanni. Numerose le iniziative tra animazione con i giochi gonfiabili, tornei di basket, pilates, balli e l'intervento musicale degli alunni dell'istituto comprensivo Francesco Iovine. I temi della giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio nella proposta dell'associazione italiana Sommelier. L'iniziativa al castello Monforte coinvolge gli alunni dell'istituto comprensivo Colozza di Campobasso. L'iniziativa si svolge in tutte le regioni d'Italia e affronta le tematiche proprie della giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio e Campobasso per merito anche dell'assessorato comunale alla cultura non si esime. Così nello scenario splendido del castello Monforte per volontà organizzativa della delegazione locale dell'associazione italiana Sommelier, esperti e cultori delle eccellenze molisane hanno incontrato gli alunni dell'istituto comprensivo Colozza che nel percorso progettuale saranno i più consapevoli e futuri messaggeri della bontà del vino e dell'olio molisano. È uno scenario magnifico e totalmente adatto a quello che è il contesto della giornata, che è la giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio, quindi una simbiosi forte tra territorio e prodotti del territorio e prodotti, chiamiamoli prodotti o comunque testimonianze della storia. In tutta Italia si svolge questa giornata, per il Molise è stato scelto a livello nazionale questo come emblema storico dove ospitare l'evento e a noi fa poi immensamente piacere che in un posto così ricco di storia siamo riusciti a portare oggi dei ragazzi delle scuole elementari per la conclusione di un progetto scolastico che abbiamo fatto insieme relativo all'olio. Il territorio ha tante risorse positive, soprattutto naturali, lo scenario naturale è incontaminato per lo più e messo insieme a quelli che sono i prodotti di grande qualità che la nostra terra riesce a dare, nell'olio ad esempio, nei vini, ovunque viene portato il messaggio dei nostri prodotti. È difficile, ma lo dico in maniera molto chiara, non semplicemente la nostra associazione, anche altre associazioni, i produttori stessi, quando vanno fuori hanno sempre dei riscontri positivi perché i prodotti che portano sono comunque prodotti riconoscibili. Quello che forse ancora manca, ma non sta a me e forse non sta nemmeno all'associazione che rappresento per la comunicazione, definirlo così in maniera totalitaria. Ma quello che ancora manca è una strategia di comunicazione che sia continua, non sporadica e legata, ecco, ahimè, magari a una singola giornata, a un singolo avvenimento, a una singola fiera. Presentazione dalle 18 di questa sera al comune di Termoli del romanzo. Hanno ammazzato il guercio della scrittrice termolese Patrizia Morlacchi, inserito nella collana specifica Italia Noir. L'evento alla presenza dell'autrice e del filosofo Diego Crivellari, parlamentare del Partito Democratico. E siamo adesso alle previsioni del tempo. tempo stabile e soleggiato oggi sul Molise, cielo stellato dalla sera. Le temperature odierne sono previste tra i 14 gradi di Campobasso e i 25 a Termoli. Ventilazione debole variabile, calmo il mare adriatico. Sulla regione domattina ancora cielo, privo di nubi. Valori climatici in leggero aumento. Venti meridionali. Nel cuore della città, lungo i muri, le strade, dove ogni angolo racconta storia, c'è l'ostaria Don Peppino, punto e a capo, dove il piacere di gustare dell'ottima cucina è con suetudine. Cucina tradizionale e innovativa a base di solo pesce fresco, baccalà e stoccafisso. a Campobasso, in via Zicardi 32, adiacente Porta Mancina. Gradita la prenotazione al 348-06-10705. Partirà domani mattina dal Molise, la nona tappa del centesimo giro d'Italia. La carovana prenderà il via da Montenero di Bisaccia, proseguendo per il vicino Abruzzo, con arrivo a Blockhouse, in provincia di Chieti. Per quanto riguarda la nona tappa, sarà impegnata anche la Polizia Stradale di Campobasso, con dieci operatori. La Polizia sarà presente per tutta la durata del giro, con il Pullman Azzurro, un'aula multimediale itinerante, cui è legato il progetto Bici Scuola, rivolto ai bambini delle scuole primarie di tutta la nazione. Intanto questa mattina si è svolto un ciclo raduno da Montenero a Vasto, con arrivo in piazza Rossetti. Lasciamo il ciclismo. Terminata la fase regolare del campionato, la Serie D si tuffa domani pomeriggio alle ore 16, nella fase finale con le partite del primo turno dei play-off della Pool Scudetto. Per quanto riguarda i play-off, in caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si giocheranno i supplementari. Se persiste la parità, passa al turno successivo la squadra meglio classificata al termine della fase regolare del campionato. Per i play-off ricordiamo nel girone F, Matelica, Olimpia, Agnonese, arbitra Federico Longo di Paola e San Nicolò Vis, Pesaro, arbitra Marco Acanfora di Castellamare di Stabia. Restiamo al calcio. Dopo aver raggiunto con merito i play-off al termine della stagione regolare, domani pomeriggio, l'Olimpia Agnonese, appunto, cercherà l'impresa sportiva anche sul difficile terreno del quotato. Matelica. Mauro Marinelli, la società innanzitutto ha regalato un sogno, una grande emozione a tutta la piazza, non soltanto sportiva di Agnone, noi riteniamo a tutto il paese. Sì, guarda, la gioia immensa c'è stata già prima nella partita quando abbiamo visto 300 persone di Agnone che sono venute a tifare per la squadra del cuore, per il grifo. Dopo si è aggiunta questa impresa sportiva eccellente, merito di un ottimo staff tecnico, di un direttore sportivo che secondo me non ha sbagliato su nessun calciatore e soprattutto perché i ragazzi hanno sempre creduto in questa impresa, anche quando tutti ci davano per spacciati. Invece siamo riusciti, dunque io non faccio nomi, dico che tutto, tutto il popolo agnonese merita questa soddisfazione, questa gioia, è un miracolo sportivo che si verifica, ringraziamo chiaramente anche l'Interland, ringraziamo voi che ci siete stati sempre vicino in ogni momento, in ogni occasione. Ora andiamo a Matelica, ci andiamo a fare una gita, noi dirigenti, i giocatori credono anche di fare un'ulteriore impresa, sarebbe un ulteriore miracolo, comunque va benissimo già così, già prima della partita. Figuriamoci dopo che abbiamo ottenuto questa qualificazione vingendo a Vasto. Giuseppe Di Pietro, una qualificazione all'Aragona di Vasto, uno stadio che ha conosciuto i fasti della Serie C con un esodo da Agnone. I meriti della società innanzitutto, prima dello staff tecnico e dei giocatori che sono stati incredibili? La società non è nulla se non ha il sostegno di una città, di un comprensorio e di un territorio che va, se vogliamo, da Trivento alle porte di Sernia, Piescolanciano, noi abbiamo un pubblico che non è soltanto fatto di agnonesi. Credo che questo sia un riscatto anche di un'intera regione, perché no, è il Molise che parla ai play-off, un paese di 5.000 abitanti sulla carta che invece con programmazione, con serietà, con dedizione, con agonismo e con tanto spirito di sacrificio raggiunge un risultato che era impensabile alla vigilia. Però ci abbiamo creduto fino in fondo e questo ci ha premiato tutti, non soltanto la società. Tre terzi posti per i nuotatori molisani della società H2O al sedicesimo meeting di nuoto città di Ravenna, sul podio Alessandro Iovine nei 50 d'Orso, Alessandro Paolo Antonio nei 50 metri rana e per Gabriele Di Giacomo, categoria ragazzi fino a 14 anni, terzo nei 50 rana. domani mattina in programma nel tratto di mare antistante la costa di Termoli, la regata di Santimoteo, promossa dal locale Circolo Canottieri. Partenza prevista alle ore 9 dal porto turistico marina di San Pietro, a sfidarsi nelle acque dell'Adriatico, 10 equipaggi in campo maschile e femminile. Torniamo per un attimo al ciclismo, la festa di sport per tutta la famiglia, una biciclettata non agonistica per occupare i centri urbani e chiedere aria pulita e città più vivibili. Torna anche a Campobasso Bici in Città, la manifestazione sulle due ruote promossa dall'Associazione Malatesta e dall'UISP, una mobilità alternativa che permetterà di trascorrere una giornata diversa all'insegna dello sport per tutti. Ed è questa la nostra ultima notizia, grazie per essere rimasti con noi, buon fine settimana.